Un evento di grande importanza a cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Ad Anoia Giovanni Quaranta presenta il suo ultimo lavoro Anoia e la Grande Guerra per l'Alba Editrice un volume che ripercorre le linee più essenziali della Prima Guerra Mondiale a cento anni della sua fine. Non è soltanto un libro di nostalgia ma attraverso queste micro storie il nostro racconta il concebuto dei calabresi nella Prima Guerra Mondiale. Nomi che troviamo scolpiti in tutti i monumenti che si trovano nelle realtà comunali. Ma il ricordo della guerra è anche un modo per riflettere su quello che è stato il nostro passato e come la Repubblica ripugna la guerra. Ma è anche un momento per riflettere su quello che è stato il contributo che i nostri hanno dato a quella grande vittoria per un'Italia libera principalmente dalle invasioni straniere. Anoia e la Grande Guerra è un libro che nasce dall'esigenza di ricordare quanti hanno partecipato, molti anoiani che hanno partecipato al grande conflitto della Prima Guerra Mondiale nell'occasione del centenario. A noi ha perduto 42 giovani per molti dei quali è stato possibile finalmente recuperare anche i luoghi di sepoltura anche con foto. Il libro poi fra l'altro raccoglie anche numerosi elenchi anche con fotografie dei cavalieri di Vittorio Veneto, dei decorati e poi ci sono anche gli elenchi che provengono dall'archivio di Stato di Bologna e dell'archivio di Stato di Reggio Calabria. Penso che sia importante ricordare quegli eventi che hanno segnato la storia dell'Italia e soprattutto è importante recuperando la memoria di questi nostri piccoli paesi della Calabria che hanno dato tanto, hanno dato il sangue dei loro figli per questa vittoria. Anoia è una metafora di quello che può essere qualsiasi paese della Calabria nel senso che la Calabria ha partecipato alla grande guerra con volontà, con forza. Ci sono stati episodi eccezionali nella storia d'Italia che ci riportano alla Calabria e io penso sempre alle gloriose battaglie della Brigata Catanzaro per esempio in cui c'era gente anche qui di Anoia fanti meravigliosi, fanti cantati anche dai poeti proprio per la forza che hanno espresso e per la volontà di combattere contro gli austro-ungarici perché volevano riportare alcuni territori nei confini dell'Italia. Nell'aspetto religioso come parroco ovviamente è un'occasione in più per pregare per quelle persone che sono morte in questa grande guerra che ci hanno dato il senso della patria e della libertà ma soprattutto perché sono stati giovanissimi che hanno sacrificato la loro vita sull'altare della patria. In questo senso io voglio ringraziare Giovanni Quaranta perché offre l'opportunità e la possibilità di conoscere un pezzo di storia anche di un piccolo comune e come quello di Anoia di giovani che sono andati a combattere per la patria i luoghi lontanissimi sul confine austriaco. Questo significa che nonostante tutto i sentimenti di una Italia veramente unita era un respiro ampio sin da allora anche se oggi nonostante tutto ci sono dei momenti di crisi dei momenti particolari di frattura. In modo particolare mi ha colpito molto la storia di Germano un signore che è un soldato un giovane soldato che è partito in guerra. Germano era un figlio di NN è nato senza genitori è partito in guerra senza lasciare famiglia ed è morto però quindi è una persona che ha vissuto solo però grazie adesso alla ricerca di Giovanni Quaranta Germano è diventato il figlio il padre, il fratello, il nonno di tutti noi. Ecco l'importanza della storia la storia che fa rivivere e che dà una famiglia a chi non l'ha avuta. Poi questo libro è importantissimo per le radici di ognuno di noi quindi è vedere il valore e quello che ha rappresentato il nostro passato perché non ci può essere futuro senza conoscere il nostro passato.